come si suol dire la migliore vendetta che può mettere in atto chi è vittima di relazioni manipolative perverse è scegliere di vivere bene le relazioni manipolative sono relazioni tossiche nelle quali è di scena il potere dell'uomo sull'uomo i manipolatori sono dei predatori sociali dotati di fascino con un forte atteggiamento virile che nasconde intenti predatori mentono sono sadici non provano rimorsi e non riescono a legarsi all'altro in una relazione stabile i manipolatori più gravi appartengono alla classe degli psicopatici ma alcuni di loro sono difficilmente riconoscibili perché appaiono socievoli carismatici conservano un fascino che camuffa molto bene la loro essenza tuttavia possono essere smascherati da alcune caratteristiche come il desiderio di dominio sugli altri la mancanza di empatia e le loro tendenze distruttive che variano a seconda dell'intelligenza e della cultura la loro strategia è attrarre la vittima isolarla e trasformarla in una sorta di marionetta da controllare le vittime hanno difficoltà ad accorgersi di essere manipolate perché sono abituate a questa modalità di relazione inoltre vivono costantemente sulle spine perché il manipolatore ha bisogno di cambiare continuamente partner per sentirsi euforico la prima cosa da fare è rendersi conto di essere manipolati riconoscendo i segnali caratteristici di cui ho parlato in tanti altri video dedicati alla manipolazione che troverete in questo canale youtube in una playlist dunque ci vuole innanzitutto un buon livello di consapevolezza ma si tratta di un processo di disintossicazione graduale che implica un duro lavoro su se stessi in quanto è doloroso ammettere di essere stati solo una pedina nelle mani di una persona che attrae prede su prede per poi sbranarle e sputare le ossa la patologia del manipolatore narcisista o borderline o psicopatico che sia consiste essenzialmente nelle distruggere persone che si fidano ciecamente e che vengono attaccate anche soltanto per un capriccio mostrando una estrema povertà d'animo che è in genere supportata da una parlantina teatrale sempre al di sopra delle regole e di ogni irresponsabilità i manipolatori sono dei ribelli senza causa i loro obiettivi sono la fama il potere il denaro il controllo e il sesso il controllo viene esercitato su tutti dai familiari agli amici con false promesse da santone proponendo una verità sempre distorta sono spregiudicati in politica spesso fanno il doppio gioco e sono totalmente insensibili non provano pietà gli altri sono soltanto strumenti per il raggiungimento dei loro scopi e qualsiasi tentativo di autonomia della vittima viene soffocato poi scatta l'ubiliazione la vittima viene prosciugata pian piano si rassegna e rinuncia alla sua libertà in pratica smette di combattere e quando è ormai agonizzante il carnefice se ne va parliamo di abuso il manipolatore affettivo è un tiranno assetato di potere con un'ambizione smisurata ed una voragine interiore che è fatta di vuoto dunque cosa fa fiuta la preda individuando la sua vulnerabilità cogliendo il punto debole poi la riempie di attenzioni la abbaglia con la promessa di un amore perpetuo e perfetto la illude la isola dalla famiglia di origine la mette contro gli amici fa leva sulla sua fragilità ed esercita una pressione seduttoria costante finché non la conquista poi arrivano le prime contraddizioni e la favola si sfalda il castello di sabbia lentamente si sbriciola ovviamente a questo punto la relazione si deteriora il gioco si sporca e l'uomo dei sogni diventa un mostro la vittima si chiede come mai abbia potuto commettere un così grave errore di valutazione dovuto al fatto di essere stata incantata da una persona così e per non soccombere tenta la fuga ma è una scelta dura perché implica un grande sacrificio la vittima deve sacrificare il suo sogno cioè l'ideale di uomo che immaginava quando la luna di miele finisce si prova amarezza e un senso di vuoto emerge la falsità ciò che prima era una persona amabile ora è una persona sadica il dottor jekyll si trasforma in mister hyde non sappiamo più con chi abbiamo avuto a che fare e non sappiamo più chi siamo la vittima dubita di se stessa ha una crisi d'identità perciò è difficile scappare per troncare la relazione ci vuole oltre alla conoscenza anche una certa dose di forza interiore e di carattere per riprendere appunto in mano la propria vita la tipologia delle prede che gli psicopatici manipolatori tendono a scegliere è una persona poco consapevole delle proprie debolezze non sa di avere un tallone di achille che la rende facile preda di chi sa fiutare quella debolezza ecco perché per salvarsi la vittima deve poter credere in se stessa costruendo con le proprie mani la realtà e non idealizzandola se c'è qualcosa da idealizzare quella è la nostra anima che è unica l'anima è insostituibile è inimitabile ed è lei la nostra voce interiore che ci guida verso ciò che è bene per noi vedete non possiamo tradire a lungo noi stessi senza ammalarci ed è il nostro compito trovare un senso alla vita il senso lo creiamo noi proprio a questo serve l'istinto creativo a scoprire chi siamo e affidarci di noi stessi affidarci cioè del nostro inconscio che sa cosa è bene per noi e conosce il desiderio di vita cioè l'eros noi vogliamo una vita piena una vita degna non una vita finta vogliamo giocare nella grande partita della vita e non essere giocati come dice jung ciò che non abbiamo vissuto ci rende vulnerabili i rimpianti ci distruggono diventano presenze ostili perciò il segreto per non cadere vittima nelle mani di un manipolatore è in primo luogo non essere vittime di noi stessi e quindi scegliere di vivere in modo consapevole tutti gli aspetti della nostra esistenza assumendoci in prima persona la responsabilità di questa scelta altrimenti questa non scelta diventa la nostra voragine che come un buco nero ci risucchia verso un destino tragico il destino invece può essere creato avere un atteggiamento creativo significa proprio questo essere responsabili di ciò che viviamo e iniziare a creare nuovi scenari nuovi progetti senza aggrapparci all'autoconsolazione ma osando agire spendendo le nostre risorse migliori e investendo il meglio di noi stessi ma per fare questo dobbiamo dialogare con il vampiro che è dentro di noi non è fuori non è il manipolatore ma è dentro e allora buon dialogo io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza e specificando il vostro nome e cognome e gli orari preferiti poi potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 400 list e varie 400 video e varie playlist sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo